primo caso di variante omicron nelle marche è una minore di tolentino tribunale dopo due mesi torna ad aprirsi al traffico via san decenzio centro vaccini e guardia medica pian del bruscolo reclama le riaperture la vl punta sull'eleganza presentata la nuova linea d'abbigliamento buonasera buonasera a voi telespettatrice telespettatori di rossini tv e ben ritrovati a rossini news il telegiornale del canale 633 del digitale terrestre notiziario serale che in questo giovedì 9 dicembre apriamo occupandoci di sanità perché anche nelle marche è stato ufficializzato il primo caso della variante omicron al covid 19 la cosiddetta variante sudafricana ed è arrivata proprio dal paese africano la ragazza minorenne che nei giorni scorsi è atterrata all'aeroporto di fiumicino dove è stato effettuato il test con il sequenziamento della variante omicron avvalorato dallo studio di virologia spallanzane di roma che ha immediatamente allertato le autorità sanitarie marchigiane la ragazza in questione vive in sud africa ma stava rientrando a tolentino per trascorrere le festività coi familiari attualmente si trova in isolamento proprio nella cittadina marchigiana e le sue condizioni di salute non destano particolari preoccupazioni la mamma in viaggio con la ragazza risulta negativa al covid 19 ed è morta a 14 anni martina campanile di osimo si tratta del primo decesso di una minorenne nella regione marche a cui è stato diagnosticato il covid 19 è una tragedia familiare per una ragazza disabile affetta da gravi patologie che aveva già dovuto coesistere con un trapianto di rene e il suo corpo contagiato dal virus non arretto martina è una dei quattro decessi da covid 19 registratisi nelle marche nelle ultime 24 ore con lei se ne sono andati anche una donna di 91 anni di macerata un uomo di 65 anni di petrito in provincia di fermo e un altro uomo di 71 anni di san benedetto del tronto i ricoveri invece nella regione marche crescono di una unità rispetto a ieri con 143 pazienti degenza di cui 31 in terapia intensiva oggi si sono registrati anche 195 contagi di cui 15 in provincia di pesaro urbino dati che sono ridotti dopo i ridotti tamponi del festivo dell'immacolata ma che sono comunque sostenuti con una percentuale del 30 delle 13 per cento di tamponi positivi cambiamo argomento perché torna a far parlare di sé umberto carriera ristoratore pesarese nonché porta bandiera del movimento io apro carriera che è intervenuto nel programma della 7 di ieri sera non è l'arena condotto da massimo giletti programma nel quale si è approfondito il caso di umberto gnudi primario del pronto soccorso di pesaro che aveva pubblicamente esternato il suo disprezzo per rinovax nonostante la sua promessa di continuare a curarli carriera ha pubblicamente richiesto la rimozione di gnudi dall'incarico contro carriera si è scagliata tra le altre la giornalista sandra amurri che ha pure accusato carriera di andare in giro da positivo al covid 19 dopo la stessa positività diagnosticata sul figlio carriera in trasmissione e anche attraverso post su facebook ha negato le accuse della murri che anche sostenuto la tesi che contro carriera ci sia una denuncia in corso arrivata dal comune di monbaroccio argomento sul quale il sindaco emmanuele petrucci ha preferito non rilasciare dichiarazioni ufficiali al di là delle riferire che sussistano tutta una serie di atti e procedimenti sui quali si stanno facendo gli approfondimenti e gli accertamenti del caso dopo due mesi di chiusura al traffico a pesaro via san decenzio torna a rivedere la luce nonostante l'area del tribunale degli annessi lavori previsti siano di competenza ministeriale il comune di pesaro decide infatti di agire con un intervento di ripristino della circolazione domani si effettueranno appunto questi lavori e si conta di riaprire al transito già da sabato mattina dopo due mesi di transenne via san decenzio torna a riaprirsi al traffico veicolare il comune di pesaro ha infatti deciso di intervenire con le proprie forze per riaprire al transito una via di collegamento cruciale chiusa dallo scorso 7 ottobre in seguito al distaccamento di piastrelle e pannelli dall'ammalorata parete laterale del tribunale un comune che va precisato non era tenuto a intervenire su un'area quella del tribunale di totale competenza ministeriale ma davanti ad una situazione di disagio evidente trascinato dal ripetersi di posticipazioni e rinvio di interventi statali agisce dunque per attenuare le criticità della zona competenze totalmente del del ministero che ha fatto un bando per la riqualificazione del tribunale delle parti armalorate del tribunale e la gara è stata affidata il contratto è stato firmato e la ditta 300 giorni per fare il lavoro e noi speravamo dall'incontro che avevamo avuto qualche settimana fa che provvedessero alla messa in sicurezza anche temporanea per riaprire la strada ma ancora non è stato fatto tant'è che domani mattina quindi già da venerdì e abbiamo deciso di intervenire con le nostre forze quindi con il centro operativo comunale per cercare di limitare il disagio l'apriremo già penso da sabato mattina l'apertura sarà dal direzione centro centro quindi dal parcheggio del cimitero direzione piazzale carducci quindi per le auto e ovviamente sarà continuerà ad essere aperto per i pedoni un disagio importante per questo abbiamo deciso di metterci del nostro e di giocarci insomma la carta per per riaprirlo per le feste poi una volta terminate le feste la ditta assicurato che inizierà i lavori veri e propri e a quel punto la situazione poi nel giro di qualche tempo ritornerà alla normalità un punto vaccinale sul territorio in linea alle crescenti domande di vaccinazioni e le ripristino del servizio di guardia medica locale dopo che le carenze del personale sanitario hanno costretto all'accorpamento a pesaro sono queste alcune delle richieste avvenute oggi arrivate oggi dall'unione comuni pian del bruscolo in seguito ad una conferenza stampa che abbiamo seguito e che si è tenuta alla casa della salute di montecchio questa è una bellissima casa della salute una delle più belle delle marche però ecco non si fanno i vaccini si fanno a pesaro a gradara noi siamo contenti però qui è un bacino di oltre 50 mila persone soprattutto le persone anziane perché devono andare a fare i vaccini a pesaro a gradara riteniamo un'assurdità io ho scritto sei lettere l'ultima della quale al presidente acquaroli e all'assessore saltamartini per dire che in questa casa della salute bisogna fare i vaccini bisogna ripristinare la guardia medica e bisogna tenerla aperta il sabato mattina la regione dialoghi con i medici trovi la disponibilità dei medici per fare i vaccini qui alla casa della salute che è il luogo dove dovrebbero stare tutti i medici pediatri medici di medicina generale e tutta la specialistica cioè tutto quello che non è ospedale che quando uno ha necessità è costretto ad andare o anche uno a pesaro urbino molti dei quali vanno in emilia romagna significa anche dare i servizi qui evitare che molta gente che va in emilia romagna che costa una barca di quattrini alla regione significa anche un risparmio noi come comune di monte calmo in foglia siamo di un altro ambito sociale siamo sull'ambito sociale di urbino però siamo confinanti vicinissimi a valle foglia e questa esigenza di avere più punti vaccinali è importantissima per la popolazione e bisogna in questo momento dove comunque la pandemia sembra risvegliarsi e c'è esigenza di richiesta di punti vaccinali io penso che sia necessario e urgente aprire questo punto vaccinale che può servire un bel bacino di cittadini compresi quelli del mio del mio comune io sento che il cittadino si lamenta della non possibilità di andare in tempi brevi ad effettuare la vaccinazione e perciò più punti abbiamo che possono coprire il territorio viene viene bene per per tutti ma anche per contrastare questa pandemia che abbiamo bisogno di metterci un punto riprendere la nostra vita normale abituale senza senza problematiche per il nostro comune la guardia medica è sempre stato un punto di riferimento ed una certezza negli ultimi anni e in questo momento trovarci ne sprovvisti è una gravissima mancanza i cittadini giustamente si chiedono perché la regione non garantisca loro un servizio che invece era sempre stato presente negli anni precedenti quindi la priorità per quello che riguarda gli interventi decisi dalla regione in questo momento sicuramente la riapertura della guardia medica di gabice che è sempre stato un servizio funzionale apprezzato e un punto di riferimento per la cittadinanza ripartono il sistema fieristico e l'export marchigiano grazie anche all'accordo sottoscritto otto mesi fa tra regione e camera di commercio le incoraggianti anticipazioni sui dati del pil e dell'export sono state dettagliate oggi dal vicepresidente della regione marche mirco carloni e dal presidente di camera marche gino sabatini nel corso di una conferenza stampa online la previsione dell'export è attualmente proiettata oltre il 20 per cento su base annua con un pil regionale atteso in crescita dell'otto per cento il natale che non ti aspetti organizzato dall'unione delle proloco in una ventina di comuni della provincia ha ora un testimonial d'eccezione si tratta di giammarco gimbo tamberi campione olimpionico di salto in alto nato a civita nova che dalle sue marche ha fatto gioire tutta italia questa estate con la medaglia d'oro ottenuta a tokyo tamberi da marchigiano ieri era al castello di frontone per girare i prossimi spot del natale che non ti aspetti in compagnia del presidente delle proloco damiano bartocetti e dell'assessore regionale francesco baldelli i musei civici di pesero si riappropriano di uno dei suoi capolavori massimi è stato infatti completato il restauro durato due mesi della pala del bellini la grande pala di giovanni bellini che sembra aprire il rinascimento portato da venezia in questa area delle marche nello stesso momento in cui carlo crivelli dipinge il grande politico della cattedrale di ascoli rappresenta uno dei punti miliari non solo della storia dell'arte ma della della civiltà locale l'opera è stata più volte oggetto di interventi quello che si è fatto in questa occasione è stata una sostituzione del sistema di contenimento che consenta all'opera in futuro di riacquisire una propria mobilità come sappiamo il legno materiale benché reciso vivo che si comporta come un materiale vivente e quindi davanti alle sollecitazioni atmosferiche riesce in questo modo nuovamente ad avere una propria mobilità è un'opera importantissima per pesaro in cui il la grande idea della pala come templum come edificio viene risolta da bellini tramite una perfetta compenetrazione tra la pittura e la grande architettura dipinta da bellini stesso la struttura non era più in grado di svolgere la sua funzione sia obbligava la tavola a una planarità che era del tutto innaturale il legno che continua a muoversi si degrada e invecchia nel tempo ovviamente non era più in grado di sostenere le tensioni create da questa struttura quindi lì è stata rimossa e sostituita con una struttura diciamo che ne segue la forma a questo punto gli abbiamo dato un imbarcamento una flessione di circa tre centimetri su tutta la larghezza e un vincolo di tipo elastico mobile in maniera che possa secondare quelle che sono il naturale comportamento della tavola guidato dai parametri ambientali o imposto dai parametri ambientali siamo molto felici di questo restauro ultimato assolutamente nei tempi programmati quindi tre mesi di lavoro tre mesi di lavoro spettacolare da parte dei restauratori sempre in questa sala con lo smontaggio della 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 pala della tavola della struttura quindi anche un'occasione unica per quanti hanno visitato i musei in questi mesi per vedere insomma dal vivo il restauro di una delle opere più importanti del mondo le opere sicuramente più importanti del rinascimento italiano e ieri 8 dicembre è stato tagliato il nastro alle iniziative natalizie delle comune di fossombrone un magico natale che potrete vedere in uno speciale dedicato che rossini tv trasmetterà lunedì 13 settembre alle 21 e 40 un evento che ha segnato una bella unione territoriale come ci ha raccontato il sindaco massimo berloni e l'assessore maurizio mezzanotti delle comune di fossombrone intervistati da francesca tricca quella che c'è stata stasera credo che sia un'iniziativa che personalmente mi riempie di gioia mi riempie d'orgoglio un qualcosa che come ho detto prima vorrei condividere con ogni singolo cittadino e consiste nel fatto che avere un apprezzamento una in qualche maniera una un contributo dovuto alla loro presenza di tutti i sindaci della del del territorio limitrofo questo ovviamente è un segno che dobbiamo confrontarci vogliamo dobbiamo confrontarci che sia di buon auspicio per il futuro quello di condividere gli esseri vicini di sentirci un po più protetti reciprocamente quindi non c'era un'occasione migliore che il natale di così di fare questa cosa e di condividerla con tutti i cittadini una vera ripresa perché fino a qualche mese fa sembrava che non fosse possibile che diverse persone che fino a ieri sono state avversarie ma letteralmente avversarie si sono messi insieme e hanno fatto qualche cosa di veramente diverso tutte le energie sono state utilizzate per remare nella stessa direzione e questo è il risultato un natale di ripresa dove veramente c'è stata una svolta abbiamo un corso molto più pulito molto più bello siamo riusciti a radunare risorse per oltre 60 mila euro radunate così all'ultimo minuto per poter permettere di realizzare questa iniziativa che deve essere un segno evidente per tutta la popolazione dopo due vittorie consecutive la vl sogna il tris sabato nel turno d'anticipo che si giocherà a treviso in questo clima di animi distesi oggi la società ha lanciato una nuova linea d'abbigliamento si chiama vl lifestyle elegance normalmente sono loghi e brand degli sponsor a finire sull'abbigliamento sportivo questa volta è l'abbigliamento a finire addosso ai consorziati della carpegna prosciutto basket pesero che questa mattina alla vitrifrigo arena hanno sfilato con la nuova linea vl lifestyle elegance presentata dalla carpegna prosciutto basket pesero in collaborazione con pro di sport ed ra che hanno realizzato la nuova linea polo giubbetti t-shirt tante novità per identificare i consorziati per dare una novità anche ai tifosi è dicembre e tempo di regali ed ecco che vl pro di sport ed ra partono con questa nuova linea con prezzi contenuti tra i 39 e i 65 euro volevamo fare un regalo ai nostri consorziati ma chiaramente anche a tutti i nostri tifosi e tifose è una cosa cui tenevamo molto e di qualche tempo direi molto tempo che parlavamo con gli amici prodi per trovare un abbigliamento più elegante sportivo possibile che chiaramente non avesse non avesse uno sponsor ma un abbigliamento che identificasse la nostra società ario costa ha abbracciato questo progetto ed ha partecipato con noi anche la creazione styling di questa nuova linea che oggi presentiamo e che ci accompagnerà perché non sarà logata con nessuno sponsor ma si cercherà di portare avanti il brand vl e ci accompagnerà per i prossimi cinque anni per la prima volta nel mondo vl abbiamo creato alcuni articoli in particolare questa polo che vediamo qui alle nostre spalle in bianco sia manica corta che manica lunga con il design e lo styling da donna la cosa principale che vorrei soffermare è che come vedete il logo vl è tutto tono su tono sul capo viene richiamato il bottone rosso e bianco per i colori sociali l'etichetta è brandizzata come victoria libertas perché questa è una linea victoria libertas e di conseguenza viene lanciato anche poi nei particolari dietro un piccolo cenno in bianco e rosso ovviamente sul bianco che è stato scelto per la donna perché la linea da uomo invece sarà monocolore e sarà di un blu cupo di conseguenza l'intento è quello di dare una certa eleganza un gusto al tifoso vl che sente di meno l'effetto supporter quindi abbiamo molto distinguere quello che è il merchandising della canotta della felpa della t-shirt dello staff e di quant'altro che con gli accessori vi dicendo con questo particolare che va più vicino al mondo dei conserziati grande serata di sport ieri sera sugli schermi di rossini tv dove l'ital service ha vinto 2 a 1 lo scontro diretto al vertice della serie a di calcio 5 contro la simbio spetrarca padova strepitoso successo in casa della capolista imbattuta grazie alle reti di de olivera e canal vano il tentativo di rimonta veneta con il gol di felipe mello con questa vittoria l'ital service seconda in classifica accorcia a sei punti il suo divario dalla vetta detenuta proprio da petrarca padova e con lo sport si conclude questa nostra edizione delle telegiornale rossini news prima di salutarci vi ricordiamo qualche appuntamento sia di questa serata di giovedì sia della giornata di domani questa sera alle 20 e 10 vedrete il nostro speciale realizzato sul natale più a fano tanto tanta atmosfera natalizia appuntamento alle 20 e 10 e poi come sempre il giovedì sera è la serata di insieme a canestro è la serata del basket su rossini tv nel nostro format che vi trasmettiamo ogni giovedì in diretta grazie alla conduzione di marco cadedu e dei suoi ospiti davvero eccezionali come questa sera avremo tyrick johnson il pivo della vl uno dei migliori giocatori del momento della carpegna prosciutto basket pesero e anche l'ex allenatore dei biancorossi luca dal monte una puntata davvero da non perdere che vi invitiamo a seguire questa sera in diretta alle 21 e 20 domani la prima replica alle 15 e 45 e sempre domani venerdì subito dopo la replica di insieme a canestro c'è il consueto appuntamento con la lettura e il commento al vangelo della domenica a cura di don marco di giorgio appuntamento dunque domani alle 17 e 30 e poi le repliche sabato e domenica che vedete in grafica e sempre domani venerdì è la serata del valle foglia il pian del bruscolo magazine il telegiornale del territorio curato da andrea sabatini edoardo razzi che torna come ogni venerdì alle 20 con prima replica alle 23 e 15 e poi tante repliche dal sabato al martedì ed è davvero tutto per questa edizione del telegiornale rossini news vi ricordo che l'informazione su rossini tv torna domattina puntuale alle 7 e 20 con la nostra segna stampa buongiorno rossini per questo notiziario è invece davvero tutto a me che non resta che salutarvi e augurarvi la migliore delle serate in compagnia dei nostri programmi